L'elicottero è regolabile a seconda di quelle che sono le performance dell'elicottero. Le performance dell'elicottero sono vincolate da diversi fattori. Adesso il collega vi farà vedere come ci si avvicina all'elicottero. Andando a mettere il piede o il ginocchio, a seconda dell'altezza di ognuno di noi, sulle montante. L'elicottero è regolabile a seconda dell'elicottero. L'elicottero è regolabile a seconda dell'elicottero. L'elicottero è regolabile a seconda dell'elicottero. Grazie a tutti.